Naturalmente a seguire le operazioni di recupero anche i due protagonisti di questa vicenda, Giovanni Delle Fusine e Alessandro Gualtieri. Comincio da Giovanni Delle Fusine, ricordiamo brevemente come è venuta questa scoperta durante la trasmissione dei questi bus. Si stava girando le riprese di un documentario dedicato a quello che mangiavano i soldati durante la prima guerra mondiale e mi hanno cercato per aver pubblicato alcuni libri sull'alimentazione vera e propria, sulle scatolette e ci siamo portati in zona di Montelemerle dove gli scontri sono stati cruenti con la speranza di trovare qualcosa relativo alla gavetta, alla scatoletta, al cucchiaio in uso ai soldati e col cerca metalli è la prima suonata, il caso ha voluto che sotto a pochi centimetri di foglie e di rami si cedasse un elmetto della prima guerra mondiale. John Dicchi, il conduttore del programma De Gustibus, alza l'elmetto, ci guardiamo negli occhi tutti i due chupiti e sotto l'elmetto c'era il cranio di un soldato. La cosa curiosa è che il rimanimento è avvenuto vicinissimo al cilio della strada, perché uno pensa che bisogna andare proprio nel bosco inoltrato e invece questi resti si trovano anche proprio vicino a dove si cammina abitualmente. Certo, pensiamo che questo posto esattamente dove siamo ora per anni, quando la strada non era in divieto, i turisti si portavano per il picnic medicale, per tenere il fresco, quindi probabilmente qui si sono seduti famigliole a passare una domenica proprio a fianco al soldato, ma questo può succedere in qualsiasi posto dell'altopiano e di guerra, soldati dimenticati e spassi ce ne sono ancora. Alessandro Gualtieri, anche lei esperto, appassionato di Grande Guerra, ha dedicato numerose pubblicazioni anche al sito lagrandeguerra.net, perché ha scelto di finanziare questo recupero? Beh, i ricordi ci mettono moltissimo a sparire, bisogno di moltissimo tempo per sparire ed essere relegati all'oblio, però molto spesso basta un'immagine, un sapore, un odore per farli riaffiorare. Ci troviamo in una zona dove si respira l'odore di storia, una storia che ci riporta a un passato prossimo, la Grande Guerra che si è combattuta non più di cent'anni fa, proprio sull'altopiano d'Asiago. Ebbene, da storico, da appassionato alla materia, ho creduto opportuno finanziare questa operazione di risumazione per cercare in qualche modo di trasmettere ai giovani di oggi, ai posteri soprattutto, quello che è stato veramente il dolore, il sangue, il sacrificio di moltissimi giovani di cent'anni fa. Proprio oggi, soprattutto quando si parla di guerre, di odio fratricida, di odio raziale, di situazioni ancora non ben risolte a livello politico, ma chiaramente proprio a livello bellico, come ben sappiamo le guerre purtroppo sono in corso in moltissime parti del mondo. Ebbene, non riuscire a trasmettere ai giovani quello che è veramente un'esperienza così cruenta, così tragica, così drammatica di guerra, significa perderci non solo un'eredità storica molto importante, ma soprattutto la possibilità di capire e comprendere meglio il nostro presente e idealmente affrontare il futuro con più cognizione di causa, quindi evitare ulteriori tragedie di questo tipo. Ecco, questo rinvenimento sta avvenendo durante proprio il centenario della strafe spedizione avvenuta nel 1916 perché questo soldato potrebbe essere stato ucciso in quell'occasione, infatti si cercherà, ho detto prima, l'auspicio è quello di dare un'identità a questo caduto. Certo, le speranze sono chiaramente come si suol dire gli ultimi a morire, anche se le probabilità effettive di dare un nome a questo caduto sono molto esigue. Di contro, verosimilmente, possiamo affermare che si tratta di un caduto italiano, l'abbiamo appunto già citato, caduto durante gli ultimi aneliti di quello che è lo slancio bellico della strafe spedizione, la spedizione punitiva voluta dagli austriaci nei confronti dell'Italia che all'epoca ha abbandonato la triplice alleanza e proprio nelle giornate che vanno dal 10 al 16 giugno del 1916, esattamente a cent'anni di distanza, proprio dove ci troviamo l'Austria sferra dei violentissimi bombardamenti che verosimilmente vanno a decidere circa un migliaio di fanti della brigata Forlì che con buona approssimazione è proprio la brigata a cui dovrebbe essere appartenuto il caduto che sta per essere riesumato, che cade appunto quale ultimo baluardo di un'Italia che riesce con un colpo di reni ad argenare e bloccare definitivamente quella che altrimenti sarebbe stata la rottura del fronte italiano, ergo la fine prematura della guerra con la perdita chiaramente della guerra da parte del conflitto da parte del nostro paese. Ecco, poi i resti verranno poi portati all'Ulsei per le analisi che cercheranno anche di stabilire come sia morto e poi molto probabilmente verrà sepolto nel Sacario di Asiago. Sì, questo dovrebbe essere lo step successivo alla ricerca scientifica che andrà in atto a breve e insieme agli altri gnoti, se non si potesse dare un nome anche a questo soldato, insieme agli altri gnoti finirà il corpo all'Aiten di Asiago dove già riposano migliaia e migliaia di caduti di questo territorio di guerra. Una volta recuperati i resti saranno poi consegnati all'Ulsei che provvederà all'analisi scientifica anche per cercare di stabilire come questo soldato sia morto e poi molto probabilmente verranno mandati sepolti nel Sacario di Asiago assieme a tutti gli altri caduti della Grande Guerra.